Un istante, signore, dopo. Ah, raga, siccome vedo tanta gente che non vedo mai, allora, la prima cosa che mi viene a dire è che da oggi, domani, dentro lo stadio, in tutte le curve, dentro i distinti e così, portate rispetto per chi sta sempre dentro quella curva. Per cui, ragazzi, quello che vi vedo io, in forma di rispetto, l'unico modo per cui potete portare rispetto dentro la curva è cantare. E quindi dovete cantare a tutti, perché dovete portare rispetto a chi vive la tecna da tutti i giorni e a chi, soprattutto, porta anche la maglietta della tecna e gioca. E su, la pari, tutti! No, no, no! E su, la pari, tutti! E su, la pari, tutti! Oh, 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 oh! Una paura coliamo si lo nascerà er e la strada del volo! Noi saremo sempre qua, se ha voluto mangiare, la delana e la scuola del mio cuore. Noi saremo sempre qua, se ha voluto mangiare, la delana e la scuola del mio cuore. Noi saremo sempre qua, se ha voluto mangiare, la delana e la scuola del mio cuore.